Valzer degli allenatori, Gattuso, Fonseca, Allegri, Sarri, si parla tanto di questo Valzer di allenatori perché le squadre cominciano a prepararsi alla stagione prossima. Gattuso-Napoli, sembra sia finita, Fonseca-Roma, sembra sia finita. Ad è logico. Mi dispiace un po' per Gattuso, anche se Gattuso si parla di Fiorentina. E ci sarebbe bene perché almeno una volta nella sua carriera potrebbe andare a finire io una squadra dove non ci sono problemi di tipo finanziario, di tipo societario, di tipo disciplinare perché la storia di Gattuso è stranissima a livello di allenatore, è stranissima. Al Sion c'erano problemi, al Pisa c'erano problemi, in Grecia c'erano problemi, al Milan quando è arrivato c'erano problemi, al Napoli c'era la questione disciplinare e c'era un problema. Non lo so, però lui alla fine riesce a portare il risultato, lui riesce a portarlo qualcosa sul tavolo. Quindi Gattuso, anche se andrà via dal Napoli, avrà tante di quelle offerte, credetemi, ma tante tante, che non è un problema per Gattuso. Il punto per me sono le squadre, come cambiano o non cambiano. Andiamo a Fonseca, Roma, e dopo parliamo di quelli che secondo me sarebbero i migliori allenatori per queste due squadre. Fonseca e la Roma. Fonseca sta facendo bene in Europa. Fonseca porta un gioco nuovo, ma non è da Roma. La Roma ha bisogno di allenatori, ma adesso ne parliamo, di allenatori cazzuti, di allenatori duri, solidi, e quelli là che ha bisogno della Roma. Storicamente è così, è sempre stato così e sarà sempre così secondo me a Roma. Fonseca è una persona che vuole fare il gioco champagne, il gioco bello, il piacere. Non è così, la Roma non è così, la Roma non è da calcio champagne, la Roma vince quando diventa bella cazzuta. Siccome questa Roma qui non è per niente cazzuta, cioè non puoi fare tre punti contro le altre sei grandi squadre, tre punti solo contro le altre sei grandi squadre e dopo perdi sempre. Cioè arrivi, metti in campo una squadra che non ha quella rabbia, non ha quella convinzione in se stessa. Si vede subito, ma subito dai primi minuti che la Roma con la Lazio, ma adesso con il Napoli, con il Milan, si vede subito che si mette lì come quei cagnolini pronti a essere sottomessi. E non va bene, e non va bene, e non va bene. I Fredrik sono nuovi, hanno fatto quest'anno nuovo, secondo me hanno già in mente. E chi può arrivare? Quindi, bene Fonseca però è meglio che vada, bene Gattuso però è meglio che vada. Chi può arrivare? Napoli. Napoli si parla di Fonseca, si parla di Fonseca, non lo so, anche se il Napoli storicamente vuole giocare bene. Il Napoli vuole giocare arioso, vuole giocare con i piedi dolci, vuole giocare morbido, questo è il Napoli. E Fonseca potrebbe anche starci, però anche lì l'ambientino del Napoli non è, non è granché, in termini, non è che stiamo parlando di squadre che non hanno pressione. Qua Roma e Napoli ti danno pressione come tifosseria, quindi Fonseca secondo me andrebbe a fare la stessa fine. Si parla di Sardi, beh, il ritorno di Sardi a Napoli a me, sinceramente da spettatore, non mi piacerebbe. Non so come la prenderebbero i tifosi del Napoli, una volta che te ne sei andato, te ne sei andato. Ste minestre riscaldate non funzionano mai, non le ho viste mai funzionare, mai, 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 mai. Penso a Mancini quando è ritornato, all'Inter, a Capello quando è ritornato, al Milan, ma ce ne sono tanti. In tutto il mondo dei ritorni che non funzionano mai e non funzionerebbe neanche questo. Perché al primo vento di crisi tutti li ha a dire, hai visto, hai visto, ormai Sardi, perché così non è la novità, non è qualcosa di nuovo. Quindi se non arriva Fonseca e non arriva Sardi ci sarebbe Allegri, ma Allegri sembra, sembra, sembra che stia andando velocemente a tappe forzate. Sembra, cioè io non so niente, ho una mia impressione, che possa andare a tappe forzate verso la Roma. Ma Allegri è uno che il calcio lo sa, lo conosce, lo capisce, lo ha visto, lo ha assaggiato, lo ha tastato, lo ha giudicato. Sa che deve entrare nella testa dei giocatori, sa che deve prendere non la squadra, ma giocatore per giocatore e fare una squadra con i giocatori che ha. È bravissimo Allegri in questo, è bravissimo Allegri in questo. Non so perché è rimasto fuori così tanto tempo, forse voleva andare all'Inter, forse voleva qualche chiamata di qualche grande club tipo Paris Saint Germain, Barcellona, ma non sono arrivate. Però la Roma potrebbe essere un buon trampolino, sia per lui, ma specialmente per la Roma. Perché se Allegri arriva alla Roma, 6-7 punti in più te li dà, ma di default, di default, dopo ha giocatori buoni la Roma. Quindi lui ha tanto per cui costruire, non solo, arriva e chiede a Fredkin, senti, comprami questo, questo e questo. E quello metti i soldi, perché quello sport americano, i soldi li tirano fuori, li fanno girare in una maniera diversa. Quindi Allegri e la Roma, automaticamente la Roma diventerebbe candidata per lo scudetto. Io ne sono convinto di questo, ma Allegri al Napoli è un po' diverso, perché De Laurentiis non gli darebbe quei giocatori, secondo me, che vuole. Quindi, per quella che sembra che sia la vulgata, Allegri alla Roma, al posto di Fonseca, azzeccato. Completamente azzeccato. Invece Sarri, al posto di Gattuso, sbagliato. Fonseca al posto di Gattuso, al Napoli, sbagliato. Chi potrei vedere al Napoli? Si parla anche di Spalletti. Però Spalletti è fuori, già da un bel po' di tempo, per convinzione personale. È una convinzione, secondo me, personale, quella di Spalletti, che non so se lui, un uomo, quando raggiunge una certa capacità economica, tranquillità economica, ma proprio tranquillità forte, economica, può anche decidere di fare altro. Può anche decidere di dire, io lo stress di andare a allenare, non lo avrei più. Lo stress di vedermi comunque sempre criticato, di mettere la mia vita là, impasta a tutti, a me non mi interessa. Mi continuo a mungere le mie vacche, o a curare il mio vino, perché lui è un'azienda green, non so. Credo che abbia qualcosa a che fare con i poderi. Comunque si diverte con la terra, che è una cosa bellissima, oltretutto. E secondo me potrebbe anche non andare. Io credo che, fra Roma e Napoli, la Roma è quella che sta messa meglio. quando cambierà allenatore. Perché il Napoli non vede quale allenatore veramente possa andare a cambiare quell'atmosfera. Perché è troppo incentrata su De Laurentiis, quell'atmosfera. Si era parlato addirittura anche di Benitez, ma anche quello sarebbe una amministra riscaldata. Si era parlato di Mazzarri. Ecco, non volere ritornare al passato. Tu ritorni al passato quando non vedi più il tuo futuro. E quello è un problema, il vero problema è che tu non vedi più il futuro. Non ti piace, non lo vedi, non ti entusiasma. Allora vuoi cullarti del passato. Il Napoli, sotto quel punto di vista, rischia tanto, tantissimo, di fare una scelta non buona. L'altro, ripeto, allegra la Roma sarebbe ottimo. Se non va Allegri, se non va Allegri, se non va Allegri, bella domanda per me. Nel senso, non so chi altro potrebbe andare alla Roma forte. Spalletti, ma Spalletti abbiamo detto che forse vorrebbe, secondo me, non vuole ritornare. Però anche lì sarebbe un ritorno. Allegra a Roma, perfetto. L'Inter, Inter rimane Conte. Non lo smuove nessuno. Oltretutto, figuratevi, cambio proprietà, quelli stanno pensando a tutt'altro. Juventus rimane Pirlo, per la grande, grande piacere. Ma anche questo non è sicuro. Io anche questo, su Juventus e Pirlo, c'è tutta una settimana, saremo fermi, quindi saranno i video, saranno sempre diversi questa settimana. Io non lo so se la Juventus rimane Pirlo, ma questo me lo conservo per qualche video che farò. Chi altro c'è di grande? La Lazio, Lazio e Inzaghi. Inzaghi c'è questo rinnovo, non rinnovo, rinnovo, non rinnovo. Secondo me Inzaghi potrebbe anche pensare, signori, io chiudo la porta e me ne vado. E là si è sempre parlato Inzaghi e la Juventus. Perché non è che ci sono... Alla Roma non va. Cioè, alla Roma non va. Al Napoli, a meno che non gli buttano un sacco di oro addosso, potrebbe essere... Ci potrebbe anche stare. Però, 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 Atalanta rimane Gasperini, c'è queste sette big. Il vero cortocircuito, il vero, diciamo, quello che è scoppiettante per adesso è a Napoli e a Roma. E ripeto, al piudo qua, ragazzi, io ripeto, anzi, anzi, al piudo qua, vi devo dire cosa si farà in questa sosta. Si farà tantissimo in questo canale. Comunque, Allegri, Roma, Napoli, non so, questo canale. Questo canale, allora, faremo un simulazione, faremo top, praticamente faremo tante belle cose sulle squadre. Si parlerà di nazionale, perché comunque la nazionale è sempre piacevole, vedremo un po' le partite. Saremo un po' fermi sotto quel punto di vista. Però, a me piace sempre di più questo, questa, diciamo, comunità di persone che seguono questo canale. Non vedo offese, le critiche sono sempre giuste. Ho buttato via, poi davvero, ho pulito tutta la stalla, perché voi non avete idea cosa c'era a livello di messaggi che arrivavano. Anche stupidi, anche idioti, non solo offensivi, quelli bene o male li togli subito. Ma, che ne so, dire, beh, il Milan ha giocato un po' male, blablabla, tu fai schifo, blablabla. O l'Inter ha giocato così, ma tu sei contato? Cioè, capito, tutti questi qua me li sono tolti. Cioè, è una cosa più intelligente. Se dovete venire a scrivere sotto, potete anche criticare e criticatemi, però. Siamo fateli con concetto. Pronostiche scommesse? Salta, ovviamente. Non so se farlo per le nazionali. Se me lo chiedete lo faccio forse per le nazionali, forse. Però ho preso il consiglione su Instagram, l'ho indovinato. Mi hanno spedito alcuni, mi hanno spedito alcuni messaggi dicendo, ma abbiamo vinto, abbiamo vinto. Io sono contento che avete vinto qualche cosa. Ho dato tanti consigli per gli acquisti che funzionavano. Cos'altro dire? È stata una settimana calcistica che ci ha dato tanto, perché ha perso la Juventus e per noi vuol dire che ci ha dato tanto. Iscrivetevi, campanella, un like. Non dimenticate di like. Diego si tiene 08 in Instagram. Ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.